E' arrivato il giorno più atteso, quello del big match con la capolista Catania. Domenica prossima, 4 dicembre, infatti alle 14.30, nello stadio Valentino Mazzola di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, si disputerà l'incontro di calcio San Cataldese-Catania, valido per la quattordicesima giornata, girone I, del campionato nazionale di Serie D. Ieri mattina, al fine di programmare idonee misure di ordine e sicurezza pubblica, si è tenuto in questura un tavolo tecnico al quale hanno partecipato le forze di polizia, che saranno impiegate nei servizi di ordine pubblico, e dirigenti delle due società calcistiche. Nel corso della riunione, svoltasi in un clima di distesa collaborazione, è stato concordato che alla tifoseria ospite del Catania sarà riservata la gradinata dello stadio Mazzola, abitualmente riservate ai tifosi della San Cataldese, con una capienza di circa 1.500 persone. Il comando della Polizia Municipale di San Cataldo, inoltre, ha individuato come aree di parcheggio riservate alla tifoseria ospite le vie Peppino Impastato e Baba Urra. Per chi arriva da Catania, poi, dopo aver lasciato la 19 in direzione Caltanissetta, si consiglia di proseguire sulla strada statale 640 fino all'uscita di Caltanissetta e poi proseguire percorrendo la via Due Fontane fino a San Cataldo.